La domanda ricorrente e inevitabile quanto accadono queste cose è perché. Magari si potesse dare una risposta che invece non c'è e allora meglio adoperarsi alla riflessione, al silenzio, perché a volte anche le parole fanno male. Così Don Nicola della Pietra durante l'omelia celebrata tra le navate della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dove la comunità di Foglianise ha salutato per l'ultima volta Marcella Caruso, vittima di un delitto feroce di cui è ritenuto responsabile Antonio Tedino, morto anche lui ma suicida. Una storia nella quale si intrecciano tante altre storie di uomini, donne e ragazzi trafitti drammaticamente da una tragedia che mai nessuno poteva neanche lontanamente immaginare. Ma nel piazzale della chiesa in ristrutturazione non c'è stato spazio per i commenti o, peggio, per i giudizi. Come aveva chiesto con insistenza il parroco, è stato solo il giorno del silenzio e del dolore. La chiesa non ha potuto accogliere al proprio interno le centinaia di persone a corse per l'estremo saluto a Marcella. Ci sono i colleghi del marito con la divisa della capitaneria di Porto, amici, conoscenti e gente comune, tantissima gente comune. I banchi erano già tutti occupati ben prima che il feretro arrivasse in chiesa. Un corteo silenzioso che accompagna la bara di Marcella fino all'altare e poi all'uscita, quando la messa finisce. Volti segnati come solo un dolore atroce può fare. C'è chi ancora pochi minuti prima della celebrazione porta corone di fiori perché l'affetto non ha una data di scadenza. C'è chi prova a commentare, a cercare una motivazione. Imprese inutile. Resta una comunità sotto shock che ha accompagnato Marcella nel suo ultimo viaggio terreno.